E' l'autore di Madre io vorrei, uno dei più peccati dedicati alla Madonna, come se fosse un cronista di 2000 anni fa. Prova a dialogare con Maria sul rapporto misterioso con suo figlio Gesù. E su queste dolcissime note, l'Associazione La Dolorata, banda musicale maestro Pietro Mascani di Trapani, ringrazio nuovamente Don Nicola Arranco per la disponibilità e auguro a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti. 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 per essere stati qui insieme a noi. Vi invitiamo il 4 gennaio a San Domenico alle ore 18. e ci avremo il piacere se volete di rincontrarci. Ancora tanti auguri, buon Natale e buon anno a tutti.